In fila, rispettosi e ordinati come soldatini nella loro divisa in grembiulino blu e tutti con la mascherina. Anche i Cerni ha salutato il rientro a scuola, distanziati tra i banchi ma tutti insieme. I disegni con gli arcobaleni, le canzoni e i videomessaggi sono ora alle spalle. Andrà tutto bene, avevano imparato a comunicare nella fase terribile dell'isolamento a casa, nei mesi più duri del coronavirus. I cancelli dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII si sono riaperti e il 14 settembre 2020 rimarrà una data che segna una svolta dalla quale, si spera, non bisognerà più tornare indietro. Sono felice e sono emozionato. Finalmente sentire le urla dei bambini, vedere i genitori che accompagnano i figli al cancello della scuola è veramente un'emozione straordinaria. Siamo contenti. Abbiamo organizzato la scuola secondo i protocolli, dovevamo farlo e l'abbiamo fatto. Abbiamo scaionato gli ingressi sia come orario di ingresso che come luogo di ingresso. Abbiamo addirittura aperto 9 ingressi nell'edificio San Lazzaro e abbiamo utilizzato tutti gli ingressi degli altri edifici, per cui praticamente quasi ogni classe ha il suo ingresso dedicato. Con la collaborazione di tutti sarà un anno straordinario, come deve essere un anno scolastico. E così, dopo la fila indiana, i controlli e lo scaglionamento, gli alunni hanno ritrovato la classe e i vecchi compagni. Per qualcuno il primo giorno di scuola è coinciso con la riapertura del post-covid. Una volta in aula e seduti giù la mascherina e pronti per ripartire. Stessa scena ai cancelli della San Giovanni in Bosco, dove il dirigente scolastico Giuseppe Posillico, 39 anni e da poco arrivato a Isernia, ha coordinato le operazioni all'ingresso con i controlli delle autocertificazioni relative ai ragazzi. E anche alla San Giovanni in Bosco, gli alunni sono entrati rispettando le regole. Inevitabile qualche assembramento per via del numero consistente di scolari, alunni e genitori, ma tutti hanno indossato la mascherina e osservato le disposizioni. Collaboriamo tutti insieme, scuole e famiglie, ha detto nel suo messaggio augurale la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, per affrontare uniti questo delicato momento con spirito di squadra e grande senso di responsabilità. I lavori, i posticipi, le mascherine, i banchi, tutto andrà al regime molto presto. La Sabatini ha voluto ringraziare il personale della scuola, che sta combattendo da mesi ogni giorno in prima linea per superare ostacoli mai visti prima.